I carabinieri, ad Avola e Noto, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo di biciclette elettriche alterate. I militari hanno riscontrato modifiche strutturali su tutti i veicoli sottoposti a controllo. Ai conducenti sono state contestate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, con importi che arrivano fino a 8.000 euro per ogni veicolo, oltre al sequestro ai fini della confisca del mezzo. In particolare, 18 sono stati mezzi controllati che, sottoposti a verifica tecnica, sono risultati alterati in quanto dotati di acceleratore e potenziati così da poter raggiungere velocità ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. Tutti i mezzi controllati erano dotati di sofisticati kit clandestini che consentivano ai conducenti di muoversi agilmente per le vie cittadine al pari di veri e propri scooter elettrici, indipendentemente dalla forza muscolare impressa sui pedali, che in alcuni casi non erano presenti, segno inequivocabile della loro inutilità. Al termine delle verifiche tecniche sono scattate una serie di contravvenzioni sulla scorta delle disposizioni che il Codice della Strada prevede nel caso di circolazione su pubblica via, ovvero quelle concernenti la patente di guida, l'uso del casco protettivo, l'immatricolazione e quindi l'assenza di targa e l'assicurazione RCA obbligatoria per l'importo complessivo di circa 120.000 euro.